Presidente Zaia, in conferenza stampa lei è stato molto duro nei confronti del governo, sottolineando che in questo momento gli italiani sono presi in qualche modo in giro, perché? Beh, perché innanzitutto siamo davanti a una compagine politica che governa dal novembre 2011 e poi perché la vera legge di stabilità è l'obbligatorietà dell'applicazione dei costi standard, ovvero se la Sicilia ha 22 mila forestali e il Veneto ne ha 400, prima di chiedere al Veneto di tagliare, chiede alla Sicilia di aggiornare i suoi dati. Senta, 15 milioni di italiani, quelli che vivono in Lombardia e in Piemonte, fanno sacrifici, voi l'avete sottolineato, e riescono a tenere i costi in qualche modo bassi. C'è un problema di tagli lineari che voi non condividete? Non condividiamo, ma i nostri cittadini fanno ancora di più, pagano tasse che poi inviano a Roma. Dal Veneto 21 miliardi ogni anno di tasse restano a Roma e Roma letteralmente le spreca.